ciao a tutti i ragazzi sono sono qualcuno e sto facendo il video su come si chiama ok another game e niente siamo su quel gioco siamo su aspetta dog c'è il dog sleeping dog dog simulator ok non so che fare di cosa abbiamo fatto poco fa abbiamo comprato la moto la pizza abbiamo comprato la moto si è il vestito fa dalla scimmia i soldi e qualifica la moto c'è la lungola di goku però il figo veramente nico si cammina a sinistra si fate con il video video sto giocando che cazzo è la cosa vuoi volare la macchina se lo so come andare contro ah no mi metto sopra guarda sono fatori come fai aspetta ma quando la macchina e non trovai colpiscina ha avuto la data per prima qualcosa perché no non vuoi fare i due duei giandri veloce con la cose? Ti muovi? Di andare indietro con la retromarcia con questo. Indietro! Non lo devi spingere. Perché? E gira, eh. Ah, dai, quindi cos'è che faccio? Non lo so, non lo so. Vedendo qualcosa, tipo una moto, una macchina, questa qua, tipo... No, faccio! È giusto? Sì, così, sì. Nella realtà sei resti morta 30 volte. No, è vero, ma siccome non è la realtà... Ma non è una cara. E indietro devi andare. Sto andando. E poi gira a destra. Ok. Troppo veloce, però. Eh, che... Vai, vai conto? No, aspetta. Se non sei provare a me dopo. Poi no. Sì, voglio vedere cosa fa la moto nuova. Eh, ma cosa cacchio qua? Eh, ma come cazzo fa? Eh, non lo so, vai, i primi A qualcosa. Hai visto? Che cazzo! È venuto Y, non so se vediamo. No, no, aspetta. Ixilon. Beh, è rotta la moto. Ma come è rotta la moto? Che bella le scarpe. Ma è una cara! No, allora figata! Ma come è una cara! Ma come è una cara! Sai che voglio giocherai tu? No, compriamo gli altri. Ah, sì, sì, sì. No. No. Volevo combattere con qualcuno, aspetta. Corri! Eh, fai quella là, fai davanti, deve stare lì, l'omino blu qua. Ok. Bisogna essere? Eh, no, no, bisogna essere qualche cosa ma criminale, cosa il genere. Non sai cosa si combatte? Come battono, con le Ix si danni pugni, con le Ix non si fa il contrattaccio. Ma la figa non deve usare la spalla. Ma vedi qua cos'è? No, io poi sul cartello penso. Vedi? No. Sì, aspetta ho capito tutto, ho gestito. Eh, sì, c'è. Beh, sì, c'è mi scrivere. Sì, a quel che faccio? Ma come faccio mi chiedevo? Mamma io! Eh, sì, però, c'è il piccolo. Ho perduto la mia! Mamma mia! Metri a cartella, credevo aprirlo a TRB, questo è il piccolo così sopra. Scappa scappa dalla polizia! E' come scappa a piedi! Sì! Ho perduto, non ti fa restare così! 編! ma non è che cazzo fai contro arrestato scavano a busta dove sarà come nel primo caso con il nuovo picchiaro vai scappa scoppa orifici picchia polizioti scusi non sa ne pulizia dietro ma vi capito con la colla tacco figo mamma mia vabbè non è solo prendere la pistola per sparare la pistola sono scritto vabbè fatti difenditi mi difendo che non è stato affanculo questi cazzo mia significato qualcosa mi percazzare in un arrestato non si connessa un giorci a questi cosa di polizioti quindi non ho trovato 3.000 dollari e quindi al solare un parcheggio di una moto oppure qualcuno andiamo a vedere quel fatto della moto di primo ma io voglio dire che bella sono giocando io mette di fare la tosta ma vuoi la cuffia no no non mi serve bisogna vedere cosa è quella freccia che è che sono più che c'è qualcosa infatti non niente infatti solo tu lo vedi comunque con la alcola i complimenti 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 o ma di testa mi veniva in viva al carata poi mi mantino a migliora secondo me la faccia di cosa premi i primi perché passano la ix non sono ix non ma perché ma appena si per effetti e non meno così tipo non è che devi andare verso sopra di salmare ma devi saltare sandare ho detto come non è solo prima cosa farei significato di ma che quando sei trova una macchina e ma meno è sempre qualcosa verde ha abito no no ci sono perché se cade la moto non la prende più se quella nostra vita come si fa ma quella di sotto questa con la vado credo non vengono x a x b b b a fa più a te infatti C'è tipo di superpoteri Infatti ma non ci sono più E perché non ci sono più? Che ce ne so Che mi sparo? Ah beh dai fai la missione No, è quello per gli superpoteri Che fare? Perché tu si dava e non ne ha fatto niente Perché vuoi dire che volevo prendere i cieli? Che fai? Ma ci stai zitto stai Wow Perché ti ho visto i superpoteri? Ah ecco Ah hai visto Come si tiene penuto X Ma tu hai una moto La moto La prendo E come cacchio faccio? Ma non lo fa più Ma lo fa A volte No lo fa lo fa E comunque quello con me Gli altri spazi Poi lo compriamo un'altra Si Compriamo Ma nonno papirino Ma perché? Che succede? Non ci sono niente Una carezza è dotata Io te voglio dire Ah grazie Tu sei molto forte Non te ne rendi conto Diritto Si perché se no Non le senti nemmeno le carezze Ma c'è Qua dice La vigilia del capotano cinese No No Non la sento uguale Vai fallo Come fai? La X è premuta Si è premuta la X O la A Perfetto Girati E vai in goppa la moto O la macchina Eh si ma non è Tu guarda Vedi Ma che cavolo si fa? Che cosa significa? Allora la testa Vadova Allora la testa Si ma la moto Si è la numero di gokos Brum Se non ci riesci Lo c'ho Io Vai dietro C'è velo capito Vadova dietro Così Devo andare velocissimo No Non fa E' ma affrontare Non fa Si Ci sarà molto E' andata sotto Si è sotterrata Oh funzioni Vai Signore Ah perfetto Di sotterrata Una panchina Quella Beh aspetta La faccio io In un ultimo Tornativo Ma do la macchina Della polizia Neanche due No Quindi devo Fuggire Vedi Vedi rallenta Allenta Prova ad andare verso sopra Così Così Si Quando fa quella cosa No ma non fa Adesso Adesso Vedi Che cazzo No Bellissimo Oh Vai tieni giocata Che smicata Si E ma come lo faccio Non posso farlo più Che vale Non posso farlo più Che muto Vero A questo punto si Ah si Tu che Io voglio la moto In garage Oh io voglio fare la missione Come vado nel garage A piedi Scusa Dall'affeggi Parchetto Vero Quindi Posso saltare Madonna Mica Che sta Scusa In questo video Non possiamo comprare Un'altra moto Un'altra macchina figa E lo facciamo vedere Per il prossimo Fai una missione Tu Si Ok Allora Compriamo uno Da dove devo andare Eh Negoti su steam Si Yes Però non so se si vede Bene Siamo ritornati Abbiamo comprato Il pacchetto uomo Della polizia Ci dà 5 veicoli Del Hong Kong Police Department E due nuovi abiti Premi A Vai Guarda Guarda Vediamo gli abiti Qua Questo qua Vedete Quello della scimmina figata Con la super banana Non è questo No Devi fare abiti Predefiniti Si Abiti Predefiniti 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 Sung Wong Vai giù Uniforme di tattica Vabbè no Vai giù Bella questa Aspetta vediamo Aspetta Questa qua P.E. polizia Tira doppiati Ma nessun P.E. Tirate vai sopra 50% delle riduzioni Del danno Delle armi da fuoco Buone questa Vabbè Teniamo quella della scimmia Premi B Premi B Questa? Si si Premi B B B B Ora vai nel garage Che sta fuori casa Così vediamo le 5 macchine nuove Che figata Vero questo costume Si Infatti Chi è infatti Io Io Il tuo amico Si I watch one I watch one My boyfriend I watch one Cazzo vai Vieni nel garage Dietro Oddio ma di giorno È brutto Non è la stessa cosa Vabbè Va niente Scusate ragazzi Devo stare zitto Non è a te Stai zitto Ah ok Vai giù Vai giù Poi qua Vai pezzolini Ah è vero Poi dobbiamo controllare Va bene Quale è che dovevo prendere? Questi qua sono Glidato Stu Antibattu A volte A volte serve un intero arsenale per comprare la missione Wow Il manto della polizia di Hong Kong La moto di Hong Kong Il furgone Vabbè tutte le cose della polizia Nel fuoristrada C'è Io la vuoi? Quale vuoi? Vuoi questa? Ce l'ho scelta Godi se la figlia tuoi Vai Che devo fare? Guida Non funziona Ah un momento Avanti Ah vabbè no Dove cercare di non ammaccare la macchina Ah Ammacca la macca Dove si va? Sulla strada Oh qua sta la mappa Vedi Guarda Dopo lo piano Io sono discreta Sei discreta Dai cazzo Vai corre come una pazza Ma che cazzo Discreta Invece di una persona Devi guardarti Non devi camminare alla cieca Beh vado Dove fai? Non sul muro Ma troppo grande sta cosa Per la nostra macchina Beh a sinistra Vabbè a destra A sinistra No Ok Bravo Cioè hai ammazzato Ma era la casa Sette persone Di fila Semine i polizziotti Semine i polizziotti Che palle Eh che palle Ammazzato sette persone Ma che fa? Che fa? Tiki tiki Eh tiki tiki Ci dove andare? Come hai fatto asseminarli D'altra volta Tu? Eh io lo putti Tiki fuoristrata Allora, sbaglio L'esimilato Vai 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 Va, non basta vai Attenzione destra Sinistra Alla Winston Churchill Vai Vado a sinistra C'è la freccia Ma che a parte qua? Non trovo senso È vero Sì si guida a sinistra In Cina Ok Quindi da qua così Si va Perfetto Camminare Ma Ma mia È così In realtà Tu ora mi credi Perché Dico mi non voleva la vita adesso passato senza nuocere a nessuno normale brava se quello che un bella stilacchiata io voglio uccidere più persone possibili è vero? si muorella madonna quella che è schiacciata in mezzo alle due macchine la portella si però si deve avvicinare si provoca la porta scusate ma ho bisogno di andare ma come sto andando? ora viene va di testa faccio dire della sinistra e se c'erano 30 mila metri si muore buttati che è morbido chi mi ha? si muore proprio sicuramente che c'è si è fatto? ma perché vai in acqua sei morto? no perché hai fatto un volo di 20 metri anche prima dalla macchina vabbè ma la macchina incontrati con beh ciao c'è una missione c'è una missione? eh no quello al prossimo video allora facciamo il prossimo video ah è vero? quanti minuti sono passati? 20 ok al prossimo video se volete lasciate un mi piace iscrivetevi al canale commentate si si ciao 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 ciao